Un giovane è stato strappato alla vita e questa è una cosa che provoca un dolore indicibile per quanti l'hanno conosciuto e per i suoi familiari, ma tutto questo non deve produrre odio, deve invece produrre un sussulto di rispetto della vita umana e di etica della non violenza, anche per quell'altro che in carcere ha deviato per sempre la sua vita. Noi dobbiamo cogliere da questi gesti incredibili, assurdi, qualunque siano stati i motivi che l'hanno provocato, mai deve esserci violenza sulla persona e non solo quella fisica, ma neanche quella psicologica e quella verbale e tutto questo si può fare accogliendo gli insegnamenti del venerabile Don Tonino Bello, cioè che l'ombra di Caino deve generare l'etica della non violenza, l'odio non può generare altro odio, altrimenti non avremmo rispetto della vita umana. Le forze dell'ordine, la magistratura, la giustizia deve fare il suo corso nei tribunali, a noi singolarmente e come comunità spetta il compito di attivare e di essere protagonisti attivi dell'etica della non violenza e dell'etica della legalità. Solo questo spirito corale della comunità può impedire gesti incredibili e assurdi come quelli accaduti.